Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Matteo, oggi siamo ovviamente in compagnia di Andrea, oggi continueremo a usare nella serie del survival, stiamo arredando un po' la casa, visto che il piano di soffè è ancora molto vuoto. Allora, oggi andiamo in caverna, perché io adoro molto la caverna. Sì, sì, oggi andiamo, perché mentre stavo facendo la casa comunque Andrea è andato, ok, allora, questo è preparato per il cibo, ci sono 8 pezzi di bistecca, ah, io ne ho 4, ok, a posto, prenditi tutti con gli 8, se serve fatti di piccoli, no, il piccone mio di ferro è tutto carico, ho due spade, andiamo, Abbiamo delle torce? Io ho 4 torce, c'è uno stack e mezzo, ah, posto, andiamo, dei bei complessi di caverna. Allora ragazzi, abbiamo deciso insieme ad Andrea che per il momento usciranno i video della survival, perché poi ci saranno altre serie ovviamente, non faremo solo survival, lunedì, mercoledì e venerdì, per la prossima settimana. Per l'altra ancora, purtroppo, non riusciremo a registrare per impegni nostri. Comunque adesso stiamo andando a cercare una bella caverna, dove andare a trovare qualche materiale che ci potrebbe anche... Che cretino che sono, guardami, la disabilità è una brutta cosa. Che ci sono, ci sono riuscita. Ok, ok, io sto facendo uscire il gatto. Ma ci sono i panda. Sono vero. Sono perso. Eccolo, eccolo. No, 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 non era l'acqua, aspetta. Guarda qua già il ferro, non ci fa schifo. Per fortuna. Ok. Ah, due pezzini ho presi io, poi li mettiamo a cuocere. Eh sì sì. Poi c'è la vecchia cesta. Ciao. Ciao qua dentro. Ciao, bella. Niente di interessante. Allora vedi che è l'asta del ferro sul blocco gigante. Ok, era da questa. Allora scendino che sono. Vabbè prendo dopo, dove stai? Eccoti. Allora vedi da qua? Cazzo. 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 Io volevo trovare l'entrata normale, invece mi sa che ci dobbiamo buttare. Oh cazzo, sono rimasto impantanato. Ok. Nice. Oh cazzo. Merda. Oh cazzo. Non ci credo. Non ci credo. Da quanto è che non morivo. Non ci credo. Scorrate. Cazzo. Eh oh cazzo. Di di qua siamo andati prima. Vieni. Ah si è vero. Merda. Vabbè dai. Ad emissione recuperare il suo nostro blocco. No vabbè. Adesso il titolo del video potrà essere. Abbiamo perso tutto il nostro loot. Addio amici. Abbiamo fatto pancini jumping. Oh me. Ti ricorda. Mi stava anche un enderman. Ottimo. Eh si. E' che quello è il problema principale. No che io come un cretino. Mi sono buttato pensando che fosse sicuro. E invece. Ci sono rimasto secco anche io. Ok. Io sono andato un po' a caso in realtà. Perché non so dove era precisamente. Non ho visto le coordinate. Merda. No io penso che se non ritrovo le mie cose cade il calendario. E' che ero tutto ferro. C'ho... C'ho... C'ho voi picconi. Che palle. Aspetta aspetta. Che tremoni che sia. No ma io ho più di te. Perché? Da qua si vede la casa. Che bello. Aspetta che io non ti vedo più. Oh cazzo. Un creeper. Mori un po'... Dove sei di bello? Ehm... In mezzo ai mob. Sto scappando dai mob. Eh pure io. Sono nella stessa situazione tua. Io sto vicino a dove siamo morti praticamente. Coordinate? 356, 147, meno 138. Aspetta. Allora hai detto 300. 58. Poi? 149. Ok poi? C... Meno... 140. 141. Ah ok ho capito. Sono andato troppo in fondo io. Tra l'altro ho quasi finito... Il cibo perciò non posso neanche più correre. Da dove cazzo siamo andati prima? Ah ok mo vedo la tona intact. Bocca! Merda! Merda! Le mortacce tua! Le mortacce! Ma... Sì vabbè ma qua stiamo giocando a biliardo dai! Sono senza parole veramente. Ma io forse riesco a recuperare le cose perché sto facendo un parkour sugli alberi e mi butto in acqua. Attenzione all'enderman se ci sto ancora. Ah c'è un creeper peggio ancora. Perfetto. Cazzo! Uno zombie ci ha rubato l'armatura. Aia! 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 No c'è uno scheletro che ci ha fottuto tutto! C'ha lo scudo, c'ha... L'armatura, c'ha la spalla... Cazzo! E' questo scheletro! Vabbè... Lo scheletro più alto. Aia! Oddio! Cazzo! Sono morto di nuovo! No! Quasi! Eh si sono morto di nuovo. Pingu è un figlio di puttana Mamma mia E mo come cazzo Moriremo dopo morti Dai crediamo nella resurrezione Guarda No vabbè sono più ricchi Gli zombie mini Praticamente hanno l'armatura In nuovo Eh si guarda che ricchi Ragazzi brutta situazione Aia Non replicate a casa Mi raccomando Guardate prima di buttarvi Per questo esiste la cosiddetta frase Che fai ti butti nel pozzo anche tu Ma in questo caso l'ho fatto Sto in mezzo a tre scheletri E nessuno di tre mi ha presa Incredibile Hanno una mira Di livello Sì ma io ho perso di nuovo Ma dove stai tu? Eh eh Sono respawnato allo spawn Quello iniziale Per almeno cinque volte Vabbè di meno tre o quattro Non ho perso il punto Ok Allora Io vedo tutta la nostra roba Forse riesco a fare qualcosa Non ne sono sicuro Ok Facciamo Non zappi Con A me la spada Voglio la spada Ok c'è una spada Di Nenchia Non c'è un culo Poi il creeper No però Mamma mia Io Ok Allora forse Oh come Ah Scattolo scherzo Mi ha fottuto Ma quanti minuti sono passati da quando abbiamo perso il loot Diciamo Non lo so perché lo sto riprendendo ogni volta Quindi si aggiorna il tempo però Ah Allora io posso andare Sto vicino Non so se ritornare a casa Sto Ci sono delle spade a terra Cerca di prenderle E Usarle Perché C'è con lo scheletro Superop Con lo scudo L'armatura E la spada Che ci fa il culo Eh si però Mo c'è il creeper Che mi fa il culo a me Ecco So caduto De nuovo No 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 Cucuu Cacca 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 al vostro cittadino dio qua c'è un sacco di ferro in questa montagna io spero che questa sia l'ultima nostra io spero che quella che ho fatto sia l'ultima caduta minchia quanto c'è l'ultima minchia quanto c'è l'ultima eh si per la pioggia vai come complicarci la vita minecraft ha fatto il tutorial mi sono perso di nuovo ok io sono vicino alla montagna però non so appunto se cioè secondo te che faccio i giorni no 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 ci buttiamoci dobbiamo andare per la roba ok allora dove cazzo sono finito io sono vicino alla montagna e le mie coordinate sono meno 286 140 meno 101 più mi sto avvicinando più scende meno 88 meno 86 ok 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 ci sono ci sono sono arrivato sì sì eccomi ti vedo ma dove sta la caverna dove ci siamo buttati ecco lo scheletro bastardo no non vedo nient'altro più ma dove sta corre e ti ammazza corre e ti ammazza io ho fatto una colonna di legno che volevo difendermi però non ce l'ho fatta perché quello ha saltato e mi ha preso non so come cazzo ha fatto ok e torniamo avanti parliamo lì per l'ennesima volta nella vita ok io sono qua eh mo mi butto nell'acqua mi butto nell'acqua da dove mi butto guarda che coglione con un cuore in mezzo no vabbè e ogni volta si faceva una strada diversa praticamente ma dove sta sto scheletro di cui parli dove cazzo mi sono buttato dove cazzo sto ok io sto alla famosa oh eccolo lo scheletro no quello è lo zombie con la nostra armatura oh merda oh merda sei zombie ti indieni e ecco ti dona e ecco la cosa cazzo 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 oppure c'è una spada un'armatura perfetto c'è solo un'armatura mezza armatura ho la spada allora prendo un poco di terra così mi sollevo corri 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 che non ho niente per contrastarlo ok allora aspetta ho una scia di metallo ho mancio vita ho manco del cibo ok allora vediamo vediamo cosa posso fare donna che nervi eccolo hai visto si si ma a me non mi ha visto ancora eh attaccalo attaccalo ok allora tieni 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 se ti può servire tieni tieni grazie ok spada bello le torce stavano qua sopra e le altre 60 torce ma tolto fallo eccole ce ne ho io ce le ho io ce le ho io tieni no me le sono riprese tieni abbiamo fatto bellissimo qua io ce le ho io ce le ho le cesoie potevamo prendere qualche foglia da qua no l'hai visto c'è il secchio c'è il secchio c'è il secchio qua c'è il secchio un cuore io ce l'ho un arco e due frecce chiedi ce le ho che le ho a un'septra si d'un l'hai visto che Ora vediamo che altro sta qua. Carino. Sì è grande. Molto a. Bellino. Ok ok, qua intanto sono sponati i nemici. Grazie. Eh ciao. E vedi che qua c'è un'altra grotta. Poi devo fare il server e devo inserire tutte le mod che ho messo. Dove se le ha? ragazzi per oggi è tutto da Matteo e Andrea ci vediamo in un prossimo episodio ciao ciao